L'ampia circolazione depressionaria che per più giorni ha interessato la nostra regione tende a colmarsi e a spostarsi verso nord-est, depressione che ha determinato tempo a tratti perturbato con piogge temporali che su alcune località hanno assunto carattere di nubifraggio con ingenti accumuli pluviometrici. Precipitazioni che ancora nella giornata di oggi, venerdì, interesseranno molte aree della nostra regione ma saranno intervallate da ampie schiarite. Schiarite che nel corso di questo fine settimana saranno sempre più frequenti. Segnale questo che sta ad indicarci un lento e graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Sabato, 17 ottobre, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti in prossimità dei rilievi dove non si escludono brevi e disolati rovesci, imparziale sconfinamento fin su alcuni tratti di costa. I fenomeni saranno più probabili nel corso del pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo, venti tra deboli e moderati occidentali e mare mosso con moto ondoso in diminuzione. Domenica, 18 ottobre, condizioni di variabilità con maggiori spazi soleggiati lungo le aree costiere. Qualche addensamento sarà possibile nelle ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica dove saranno possibili brevi piovaschi sparsi. Temperature stazionarie con valori lievemente al di sotto della media stagionale. Venti deboli settentrionali e mare poco mosso. Da lunedì la circolazione tenderà a mutare grazie all'affondo di una depressione sul vicino atlantico la quale darà luogo all'espansione di un campo di alta pressione dal nord Africa. Alta pressione che, tra martedì 20 e giovedì 22 ottobre, tenderà a rinforzarsi e a posizionare i suoi massimi sulle nostre regioni meridionali, determinando qui un sensibile aumento delle temperature diurne e condizioni di tempo discreto anche su tutta la nostra regione. Una parentesi dal sapore tardo-estivo che potrebbe durare fino al prossimo weekend. Ma, per maggiori dettagli, invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile